Mi saluto al nostro Biagio Mannino, si riparte nuova settimana, nuovi temi, insomma so che I don't like Monday non ci piace il lunedì, però anche di lunedì dobbiamo in qualche maniera affrontarli questi temi. Buongiorno Biagio. Buongiorno Graziano, ma io avrei una proposta, non si potrebbe dalla domenica ripassare direttamente al sabato, perché potrebbe essere risolutivo. Non sarebbe male come idea, l'unica cosa è che poi non andremo più in onda praticamente. E questo, vabbè, potrebbe essere un'idea. Allora Biagio, parliamo di politica interna anche perché si sta andando verso un congresso importante, quello del PD, i grandi sconfitti di queste ultime elezioni, insomma c'è già fermento in tal senso, perché qui siamo un po' alla resa dei conti, no? Giusto? Guarda, le elezioni del 25 settembre hanno veramente creato in casa PD delle serie problematiche e delle importanti valutazioni anche su quale sia l'effettivo cammino di questo partito. Un partito che ormai ci ha abituato negli ultimi anni a vedere dei momenti di grande tensione e che normalmente sfociano anche con separazioni, divisioni, nascite di altri partiti e poi anche contrasti con gli stessi nuovi partiti nati che sono anche un'espressione sempre del contesto del PD e poi ritorni nello stesso PD. Insomma, un partito che non riesce a trovare una linea effettiva, una linea che possa dare anche una continuità e un'impressione di una consistenza propria. Questo ovviamente sconcerta gli elettori che, se andiamo ad analizzare nel tempo, si stanno allontanando sempre di più da questo partito. Perché non possiamo dimenticare che le elezioni del 2018 già vedevano il risultato più basso ottenuto in una competizione elettorale dal PD. Le elezioni del 2022, pur mantenendo sostanzialmente gli stessi numeri, però, hanno visto un aggravamento perché a quel numero già basso, di fatto si è integrato anche un forte astensionismo, quindi un'ulteriore mancanza di elettori. Insomma, il PD deve ripartire e deve ripartire soprattutto da se stesso, più che da un contesto esterno. Perché, se vogliamo, all'indomani delle elezioni la valutazione di un congresso sicuramente era importante, ma è molto in là nel tempo. Si parla ovviamente del mese di febbraio. Le problematiche che il PD deve affrontare le avrebbe dovute affrontare in tempi decisamente più brevi. E lo sottolineiamo ulteriormente, guardando al proprio interno. Perché noi assistiamo in questo momento ad una contrapposizione di comunicazione politica nei confronti di chi invece ha vinto le elezioni, e in particolare i fratelli d'Italia, e ancora più in particolare la figura di Giorgia Miloni. Come dire, l'effetto di reazione alla sconfitta del PD è una forte opposizione, molto accesa nei toni e nei contenuti, anche quando magari quei contenuti, tutto sommato, hanno un valore molto relativo per andare a creare una contrapposizione. Quale fosse un percorso, anche qui, di comunicazione politica che vuol mettere da parte le problematiche interne, cercandone invece di esterne, per cercare in qualche modo di rimediare a delle mancanze. Insomma, il PD, lo ripetiamo, è un partito alla ricerca soprattutto di se stesso e soprattutto di se stesso dopo quell'esperienza dei quattro anni precedenti che lo hanno visto protagonista, assolutamente protagonista, nel percorso del governo Draghi. che dice che molti dei voti si siano poi trasformati in quelli del Movimento 5 Stelle, ci sia stato insomma una sorta di transazione fra il PD e il Movimento 5 Stelle, che però continua a dire che è un partito trasversale questo. Come la vedi? Ma il Movimento 5 Stelle nasce come un partito, o meglio dobbiamo definire così, un partito trasversale perché è una di quelle formazioni che è andata a raccogliere il malessere che la politica italiana ha prodotto nel corso degli anni 2000. Il 2007 è stato l'anno del V-Day, del V-Day, del V-Day di Beppe Grillo in quella piazza a Bologna e da lì tutto quanto incominciava e raccoglieva un grandissimo consenso proprio perché gli elettori cittadini italiani cercavano un qualche cosa che rappresentasse un'alternativa a quella, potremmo chiamarla tra virgolette, solita contrapposizione tra centrodestra e centrosinistra senza venirne mai effettivamente fuori. Il Movimento 5 Stelle ha rappresentato sicuramente un grande passo avanti, ma contemporaneamente ha rappresentato anche una grande delusione per chi è andato in quella direzione, perché è rientrato secondo i canoni classici dei partiti con dei meccanismi che hanno trovato un'affermazione e nuovamente ritorniamo all'ultima legislatura dove quel Movimento 5 Stelle che diceva che mai si sarebbe alleato con praticamente nessuno si è alleato in realtà proprio con tutti. Il primo governo Conte è alleato con la Lega, il secondo governo Conte con il PD per poi arrivare nuovamente all'esperienza con Draghi dove tutti quanti erano alleati assieme. L'importanza che il PD ha in questo momento storico nel contesto italiano non è irrilevante, anzi tutt'altro, perché la storia ci ha insegnato in maniera importante come sia fondamentale che in un contesto democratico esista una opposizione. L'opposizione è importantissima proprio per bilanciare i poteri all'interno della politica e la dimostrazione torna sempre lì. Ritorniamo a quell'esperienza, il governo Draghi, dove di fatto un'opposizione non c'era. A parte Fratelli d'Italia, partito che in quel momento contava il 4% dei consensi, tutti gli altri erano schierati all'interno di questa maggioranza che più ampia di così non poteva essere a sostegno del governo Draghi. Ed è qua il problema, perché le diverse caratteristiche, le diverse realtà di uno Stato complesso come quello italiano necessita anche la rappresentatività nel contesto parlamentare. Se di fatto un'opposizione non esiste, non esiste una tutela di chi viene in un modo o nell'altro colpito anche da determinate situazioni, da determinate condizioni. Abbiamo vissuto questo 2021-2022, lo sappiamo molto bene, in maniera estremamente difficile, pesante e il PD è stato tra i protagonisti in questa realtà. Ora, le valutazioni che vengono fatte in vista del congresso si legano più che altro a delle problematiche a seguito di un'intervista che Stefano Bonaccini ha rilasciato, se non sbaglio, ieri, in cui si candida alla segreteria del PD, a diventare segretario nazionale del PD. Stefano Bonaccini mette in evidenza dei problemi che il PD ha, come anche andare a trovare quella sua identità nel contesto del centro-sinistra. Ma sembra quasi che la fuga degli elettori dal PD votando o astenendosi e portando il PD a raccogliere dei consensi così bassi e soprattutto anche nei sondaggi continuano ad essere estremamente bassi. Ebbene, sembra che siano delle problematiche esclusivamente interne, ma bisogna anche porsi il quesito se quella funzione che si è esercitata, quella funzione di governo e in particolare nel biennio 2021-2022, non sia invece quella la reale causa di un allontanamento degli elettori, di una disillusione, di quella componente di sinistra e di centro-sinistra che non vede più nel PD probabilmente l'elemento in cui identificarsi. Perché in questo momento in Italia, se vogliamo, per quanto riguarda il mondo della sinistra, la componente sociale italiana potremmo dire che probabilmente non ha un punto di riferimento. Possiamo vedere poi dopo il congresso quali saranno gli sviluppi, anche perché sarà forse una situazione diversa anche dal punto di vista della politica di questo governo, ci sarà ancora contraposizione, non si sa, staremo a vedere. Ovviamente. Senti, invece so che tu hai seguito un altro tipo di consultazione, insomma qui dietro l'angolo a Kathmandu, so che tu ci puoi raccontare di cosa è successo e cosa sta succedendo in quella area geografica. Io ho insistito molto con te, Graziano, per fare la maratona elettorale per le elezioni in Nepal, però non c'è stato verso. Però qualcosa ci puoi raccontare di cosa sta succedendo. In Nepal ci sono state ieri le elezioni, si attendono i risultati, un paese che rientra nell'immaginario collettivo proprio per quanto riguarda l'importanza nell'ambito dell'alpinismo, soprattutto ovviamente tutto ciò che si lega a questi aspetti, un paese incastrato tra l'India e la Cina e 18 milioni di elettori che sono andati a votare per una realtà politica molto instabile. Basti pensare che con la conclusione della monarchia iniziava nel 2008 un percorso in cui il Nepal ha visto l'alternanza di ben dieci governi, come a dimostrare che non si riesce in quella realtà a trovare una via che possa dare poi effettivamente una stabilità di governo. Ora il Nepal vede sostanzialmente tre forze principali nel suo contesto. Una è rappresentata dal partito del congresso nepalese, molto vicina alla realtà indiana, dopo c'è il partito comunista di ispirazione marxista-leninista e il partito chiamato centro-maoista. In una sorta di problematica perché il Nepal cerca di sopravvivere all'effetto della presenza da un lato di questi due giganti, l'India da una parte e la Cina dall'altra, che si contrappongono tra loro e fanno pressioni su un paese che ha bisogno fortemente di finanziamenti, di entrate perché la sua consistenza è basata sostanzialmente sul turismo e su quanto i lavoratori che sono emigrati poi mandano alle famiglie, mandano in Nepal. La Cina guarda alla realtà nepalese con grandissimo interesse è sempre lì per le vie della seta. La Cina si sta muovendo in modo importante, in modo globale per quanto riguarda le vie della seta e ovviamente nei suoi giochi e nelle sue progettazioni di logistica, soprattutto dei trasporti, ovviamente ci sono dei punti particolarmente delicati e questo ovviamente rientra anche in quegli equilibri che soprattutto Cina da una parte ma l'India dall'altra tentano in un modo o nell'altro di ostacolarsi. Il Nepal è fondamentale per la Repubblica Popolare Cinese proprio per proseguire in questi itinerari, in questi percorsi l'Asia centrale e di conseguenza anche le competizioni politiche interne rappresentano quel punto di riferimento poi per quelli che saranno gli sviluppi futuri degli stessi interessi da un lato cinesi e dall'altra parte quelli indiani. Insomma il Nepal si trova ad affrontare queste elezioni che sono molto molto importanti, le valutazioni sono tra le più diverse e probabilmente ci sarà una continuità di una sorta di instabilità, tutto dipenderà ovviamente dai risultati. Questi partiti come detto importanti nella realtà nepalese rappresentano anche un qualche costo di particolare, basti pensare che il partito comunista di ispirazione marxista-leninista normalmente è alleato con il partito monarchico nella realtà del Nepal. Insomma il caos sembra essere dominante, ma mette in evidenza come il Nepal da una parte, lo Sri Lanka che abbiamo citato tante volte, ma anche il Bhutan di cui abbiamo parlato qualche mese fa, sono queste realtà per lo più sconosciute ma fondamentali e determinanti per gli equilibri tra i giganti India e Cina. Questo è il motivo per cui vanno seguite comunque anche queste elezioni che speriamo siano regolari, perché ormai le elezioni regolari sembra che non se ne siano più in tutto il mondo, a partire dagli Stati Uniti, ma comunque speriamo di sì, in qualche maniera che ci sia dato spazio veramente al voto degli elettori. Bene, grazie per averci illuminato anche su Katmandu che era fondamentale per noi, ora possiamo continuare e noi invece ci ritroviamo come sempre domani con altri temi sempre interessanti. Grazie Biagio. Concludo dicendoti che a Katmandu a maggio è stato eletto un rapper come sindaco. Sono ben sistemati anche loro, insomma, ho capito. Grazie Biagio, a domani. Bene, ciao, ciao Graziano.